Ciao a tutti ragazzi, e cosa sta succedendo? Allora, calma, calma. Questo video non doveva uscire, infatti ci ha preso di sorpresa. Stavamo per fare la vanilla per il giorno dopo, domani. Infatti probabilmente quando vedete questo video sarà malapena un'ora dopo che l'avremo fatto. Ma siamo entrati nel launcher, siamo entrati nel round di Minecraft e poi ci vediamo questo. Esatto, pesce d'aprile. Pesce d'aprile, la texture pack normale è stata sostituita da questa e non possiamo farci niente. Ok, bello, quindi magari domani la vanilla sarà tipo registrata. Sì, se sarà strana scusateci, ma non possiamo farci niente, a meno che non mettiamo una texture pack nostra. Sì, appunto, è stranissimo. Cioè, guardate il sole, raga. Dove è il sole? Ma io ce l'ho il sole. Ah, non c'è gli effetti, Vlad. Perché non ho il sole? Tra l'altro ecco, guardate, non ho pacchetti, non ho resus pack, non ho niente, quindi non sto scherzando. Dove è il sole? Dove è il sole? Praticamente è un uovo di... È un uovo... Solo l'una. Ah, eccolo. Oddio. È vero, sembra l'uovo della... Quando lo rompi, lo metti in padella e... Non direi più niente. Ok, perfetto. Allora, questa texture dovrebbe essere ispirata a cosa? Ma non lo so, al degrado. Al degrado, veramente. Cioè, guardate la cobblestone, raga. Cioè, è stranissima, veramente. Alla PlayStation non dovrebbe essere ispirata. Non so se tipo, poi quando pubblicheremo il video ci sarà di nuovo tipo la texture di base, però fate conto che stamattina non c'era, noi siamo entrati e abbiamo registrato... È vero, è vero, non c'era, non ci ho fatto caso. È recentissima come cosa, non so se sia da un'ora, da due ore o boh, chi lo sa. Però ce la godiamo un attimo. Tra l'altro, scusami, ho fatto un mondo a caso e ci siamo spawnati in un villaggio bellissimo. È perfetto per far vedere sta texture pack. Guardate, tipo la sabbia, stranissima. E direi ora di andare anche in creative per vedere cosa ci riserva la crema. Ma il perché abbiano... Oddio, i brutti. Perché hanno fatto sta cosa? Cioè, sembrano... Oddio, guarda la balla di pieno. Oddio. Ma cos'è? Vomitata, cosa si abballa di pieno. Oddio. Sembra zuppa, vista da sopra, sembra zuppa. Cioè, è tutto... Non è che dici che i colori si sono, tipo, schiariti. No, è completamente a capo. Cioè, guardate... Questa spugna Lari l'ha usata Hulk per asciugarsi, perché è rimasta verde. Oddio, è brutto. Io ho messo la testa di Ender Dragon, così la potete vedere. E poi, più o meno, tipo, alcuni materiali sono stati appunto un attimo cambiati i colori. Schiariti. Sì, ma di brutto. Tipo questa, anguri a marcia. Cos'è sta roba? Anguri a marcia. Guarda, che schifo. Oddio, oh mio Dio. Il blocco di diamante è stranissimo. Dove sei? C'è, c'è del verde. Oddio. Non so. E marcia anche questo. È marcissimo. Questo c'ha le scaglie, quindi è figo. L'occhio di drago, se la testa di drago ci sta. Guardate. Però, un po' tutto. Tipo, volevo vedere anche... Anche gli smeraldi, lo smeraldo grezzo è stranissimo. I mob, dici che li hanno cambiati. Prova, prova, è vero. I mob. Tra l'altro la squadra di diamante è diventata blu, acqua, qualcosa. Io mi metto a fare anche il portale. Ah, è vero. Hai ragione. Non ci avevo pensato di andare nel nether. Oh mio Dio. Vieni a vedere il maiale, ti prego. Ma cos'è? Non lo so. È tipo zombie. È stranissimo. Sembra sporco di fango. Oddio. Il pollo? C'è il becco rosso? Ma perché? Ma perché sta roba? Voglio vedere altri. Davemi altri animali. Acciarino, dov'è? Eccolo qui. Sì, entra. Vediamo. Vediamo se è cambiato qualcosa nel nether. Che caspita è successo. Larry, non posso andare al portale? Me lo impedisce una forza? Ok? Ma scusami, anche te? Ora, tipo entrerai e tipo sembra che c'hai un occhio. Sì, ho un alone di... Di occhio. Ho gli occhiali da sole, non lo so. Ma... Anche qui, guarda i funghi. È stranissimo, raga. C'è un occhio. Vabbè, è che da lontano non si nota, eh. Cioè, visto così da lontano non si noto. Però è... Sì, ce l'ho st'occhio, che perché? Perché ho un occhio di pasta. Guardate, cos'è sta roba? Mi è andato un pugno, non vedo. Io sono ritrovata nel mondo normale. E volevo vedere i mob, quindi... Scheletro. Tipo il pappagallo. Ah, vabbè, il pappagallo. Poco cambia, solo un po' più. Lo scheletro... Normali. Lo shulker. Oddio. La mucca, la mucca, la mucca. La mucca è che lei è classica. Ah, il creeper. Ok, è classica. Oh, mio Dio, i binari. Sono tipo... No, lo so. Binari? Sì, sono binari, ma binari strani. È un po' marci. Oh, guarda il tronco. Tronco? Guarda sopra. È stranissimo. Sembrava una cosa zecca, una roba del genere. Ah, la fornace che è rovinata completamente. Ma aspetta, aspetta, calma, vediamo un attimo le cose che è calma. Tutta la velocità della luce. Non lo so, cioè, è veramente pazzesco, raga. E appena abbiamo visto sta cosa abbiamo pensato appunto di farvela vedere. Ecco, anche lo zombie è completamente diverso. Ma che cavallo? Vado, dammi un cavallo di cente. Ok. Si, hanno tipo tutti degli aloni strani. Comunque ragazzi, noi concludiamo qua il video. Se volete scoprire anche voi altre cose, entrate immediatamente su Minecraft. Non lo so, noi lo stiamo registrando alle 5, ecco. Sì, alle 6, il rumenimo, alle 5. Sì, alle 5. E quindi speriamo che appunto quando uscirà questo video, potrete anche voi vedere queste cose. In ogni caso, troppa trovate la riscrizione al nostro canale. Se non ci vediamo se vi ho visto io. Ciao!